Il Comune di Pescara pubblica un'ordinanza sulla balneabilità. Due chilometri che sono interdetti per adesso, ancora bisognerà vedere quello che succederà ad avvio di stagione. In qualche modo, qualcuno dice, è compromesso l'inizio della stagione estiva. Io dico sempre che bisogna conoscere per deliberare. Si parte con un divieto di balneazione esteso fino a Via Ragazzi del 99, ma possiamo guardare con ragionevole ottimismo al futuro. Lo facciamo non in base a previsioni da sciamano, ma in base al lavoro svolto questo inverno. Un lavoro teso a incidere il più possibile sulla vera causa della criticità del nostro mare, che è il fiume. Questo significa che a fine aprile termineranno i lavori del DK15. Questo strano nome che significa collettare scarichi ed evitare che essi vadano direttamente nel fiume. Questo avrà riflessi positivi. Poi abbiamo svolto un'azione di monitoraggio ampia sul fronte scarichi civili e scarichi abusivi. Stiamo, per quello che è possibile, tappando tutti gli scarichi. E l'esame dei dati, anche questa è una novità, perché noi abbiamo monitorato i dati del mare e del fiume lungo tutto l'inverno, mostrano una tendenza positiva. E quindi possiamo pensare che questo divieto ampio con cui si parte potrà essere ridotto. Adesso i punti di campionamento sono nove e vengono ripetuti ogni 15 giorni. Vengono ripetute queste analisi e dobbiamo attenderci due campionamenti consecutivi positivi onde poter procedere alla rimozione del divieto di balneazione.